Devi sapere che mentre si è in volo è fondamentale comunicare in maniera chiara e concisa, ne va della sicurezza, ed è per questo che oggi parliamo dell'interfono o intercom. Si tratta di un dispositivo che mette in comunicazione il pilota col passeggero, tipo questo. In commercio ne esistono svariati modelli, noi ne abbiamo individuato uno con il miglior rapporto qualità-prezzo. Si tratta dell'Avio 1, prodotto e distribuito da Star Company. È un intercom portatile per due postazioni, quindi adatto soprattutto agli ultraleggeri. È alimentabile esternamente a 12V tramite apposito cavo con spinotto accendisigari, oppure con batteria interna a 9V. È possibile trovare tutte le caratteristiche tecniche e gli accessori opzionali direttamente sul sito www.starcompany.it www.starcompany.it